Buongiorno a tutti e bentornati a Valgrande. Oggi sono qui, sono davanti a questa piantina che è il segno tangibile della nostra partecipazione all'iniziativa regionale chiamata Diamo un sorriso alla pianura padana. La possibilità quindi ai privati cittadini, data da alcuni sindaci di mettere a dimora all'interno del loro giardino o all'interno di spazi verdi quindi la possibilità di mettere a dimora e di accudire una pianta assegnando quindi un grande valore alle piante ai cespugli che possono essere presenti nel nostro territorio. Vi invito poi a passare qui da noi durante i fine settimana e nei prossimi tempi per vedere anche voi con i vostri occhi la crescita di queste piccole piantine approfittando anche per assaggiare le nostre preparazioni che per questo fine settimana e non solo sono con le paste ripiene proposte da noi realizzate da noi in casa come i tortellini o i cappellacci di zucca come le fettucine con condimenti a base di verdure o di carne e da questo fine settimana anche la presenza nei nostri menù degli gnocchi con il condimento classico polesano a base di grana padano zucchero e cannella però non solo questo potrete trovare nei nostri menù ma anche le preparazioni a base di carne o a base di verdure completando poi i nostri menù con i dolci realizzati in casa. Ricordo sempre la possibilità del pranzo veloce dal lunedì al venerdì mentre il pranzo dei giorni di festa nel fine settimana. Vi invito a continuare a telefonare anche per avere informazioni ricorrendo ai contatti che troverete nelle pagine del nostro sito o attraverso i social. Ciao! Grazie a tutti!